Carissimi amici del canale Telegram, dentro la notizia proseguono le buone notizie e ci motivano a perseverare nella resistenza verso coloro che vorrebbero privarci delle libertà costituzionali. Domenica scorsa il CEO di BlackRock, Larry Fink, ha rivelato all'Aspen Ideas Festival di aver abbandonato il termine ESG, Ambiente, Sociale e Governance, perché è stato altamente politicizzato e si vergogna di essere parte del dibattito, secondo Axios. Fink ha riconosciuto all'evento che la decisione del governatore della Florida Ron DeSantis di sottrarre due miliardi di asset ha danneggiato la sua azienda. Il governatore DeSantis ha ritirato i fondi statali gestiti dal più grande gestore di denaro del mondo alla fine del 2022, a motivo delle politiche di capitalismo risvegliato. I legislatori degli Stati Repubblicani hanno accusato BlackRock di spingere l'agenda fallimentare ESG nelle aziende. Oltre alla Florida, stati come Louisiana, South Carolina, Utah, Arkansas, West Virginia, Missouri e Texas hanno ritirato fondi dal gestore patrimoniale. Fink sta accusando il colpo. Ricordiamo che il capo di BlackRock, colonna portante di primissimo piano dei quadri del World Economic Forum, era molto nervoso all'inizio di quest'anno per la demonizzazione degli ESG. E ne aveva motivo. Inoltre, il mese scorso, 17 procuratori generali di Stati Repubblicani hanno presentato una mozione alla Federal Energy Regulatory Commission per contestare l'acquisto da parte di BlackRock di più di 10 milioni di dollari di quote di voto in società di servizi pubblici. Potete vedere il video integrale sul nostro canale Telegram. Iscrivetevi gratuitamente per ricevere le notizie che il mainstream non dice. Carissimi amici del canale Dentro la Notizia, un vivo ringraziamento a tutti voi che ci avete aiutato a divenire il primo media italiano di informazione su Telegram. Per continuare a offrirvi quotidianamente un'informazione intelligente a tutela della popolazione, abbiamo bisogno del vostro sostegno. Se lo desiderate, potete dimostrare di apprezzare il nostro lavoro a beneficio di tutti con una donazione singola o mensile. Per essere avvisati sull'uscita dei nostri video, iscrivetevi su Telegram e condividete il video. Più siamo, più forza avremo. Uniti si vince! Un abbraccio dal vostro Roby.